E' partito? Ora! Ora! Ben tornati e non ci si vedeva. E' vero, era tantissimo. Ora stasera noi siamo a Mahon perché abbiamo da fare, da partecipare. Metti che qualcuno vede il blog, metti che qualcuno interessa, non si sa mai. Sono qui fino al 29 di settembre. Sì, sì, ma non ti fidare troppo. Allora, stasera c'è il banana party, non ci si può perdere. Banana party. Va bene? Quindi stasera a Mahon vi portiamo a vedere cos'è e che cosa succede. Al banana party. Non è un battuaggio, non è niente di particolare, è semplice. Sono tante bananine in alto, tanta gente sotto che balla e si diverte. Sotto le banane. Ma dov'è la telecamera di Mahon? Ma io penso che sia, boh, non lo so, guarda un po' di qua. Eh, ora guardi bene. Ok. E il banana party sono tante bananine appese, sotto c'è tanta festa e siamo sul porto di Mahon. E che altro? Il porto carino, bello, insomma, c'è tanta gente, c'è da divertirsi. È un bronzato però. Davvero, si sta benissimo, eh? Sì, è vero. Qui siamo sul porto di Mahon. Ora però andiamo alla festa della banana. Eh, cioè il banana party. Banana party. Allora bene, a per poco. Ciao. Eccole! Eccole banane! Eccole banane! È vero! Ma sono tantissime! Banane come se ci dovesse! Banane come se non ci fosse un domani! Tutte banane! No, Gringard non va! No, non c'è nulla! Non c'è una roba di plastica, posticcia! Non c'è un banane, però non ce l'è! Non ce l'è! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.